Nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, anche nel cimitero di Sassari, parenti e familiari hanno ricordato i propri cari che qui riposano, con preghiere e fiori lasciati sulle tombe. Grande partecipazione alla funzione religiosa concelebrata dall'arcivescovo padre Paolo Azzei al Sacrario Militare. Non siamo qui a dare medaglie, ma a ricordare tutti i caduti e i militari morti durante il servizio. La nostra commemorazione diventa allora un ricordo più vivo. Ha detto padre Paolo che al termine dell'omelia ha rivolto un pensiero a chi in Umbria e nelle Marche ha perso la propria abitazione a causa del terremoto. Sono intervenute le massime autorità civili e militari della città e della provincia, alla presenza delle truppe schieratte, dell'esercito e delle forze dell'ordine. Ai latti le associazioni d'arma e dei reduci di guerra. Prima della benedizione finale è stata letta la preghiera del soldato. Al termine della funzione religiosa sono state deposte le corone dall'oro sul monumento ai caduti di tutte le guerre all'interno del sacrario militare. La cerimonia si è chiusa con il corteo che ha reso omaggio presso il cimitero monumentale alle tombe di Antonio Segni e di Francesco Cussiga. Al cippo centrale, con ingresso da via San Paolo, prima della cerimonia al sacrario militare, il sindaco Nicola Sanna ha deposto una corona di fiori che si è aggiunta all'altra corona dell'intergremio, sistemata nel giorno di ogni santi.